Continuano i controlli sul territorio provinciale da parte della NITA, Nucleo Intervento Tutela Ambientale di Agropoli, nella mattinata di ieri, intorno alle ore 12, volontari durante la normale attività di perlustrazione del territorio della cittadina agropolese, dopo essere stati avvisati da un volontario del Gruppo Comunale della Protezione Civile della città di Agropoli, della presenza di rifiuti abbandonati e di diversi zaini e borse in via San Pietro, nella località Moio, hanno rinvenuto all'interno degli stessi indumenti personali ed altri oggetti. Sul posto anche i militari della compagnia di Agropoli. Su diversi zaini vi erano anche delle etichette bagaglio. Non si esclude che la rifurtiva rinvenuta sia stata abbandonata dopo furti ai cittadini e turisti del posto. I carabinieri della locale stazione di Agropoli stanno provvedendo a rintracciare i proprietari dai dati presenti sulle etichette rinvenute. Questi episodi non sono nuovi in questa località perché spesso i cittadini del posto hanno notato e segnalato più volte, oltre a rifiuti di ogni genere, zaini e borse con oggetti personali, anche teste e pelli di cinghiali. La zona, fanno sapere i residenti del posto, manca di illuminazione nonostante l'ente comunale abbia installato diversi anni fa dei lampioni a pannelli solari che però hanno funzionato per poco tempo. La richiesta è sempre la stessa, maggiori controlli sul territorio e l'attivazione in via San Pietro dei Lampioni che potrebbero dare maggiore tranquillità e fungere anche da deterrente per i malintenzionati.